Ragazzi video velocissimo per annunciarvi due cose urgentissime, importantissime, bellissime Dalle 22 sarò in live su Twitch con Pub... Player on Battleground Player on Battleground Vabbè avete capito ragazzi, il gioco simile ad H1Z1 Sarò con Nakimbo che vedete qui nella webcam che sta streamando lui prima di me su Twitch Dopo di lui ci sarà il mio power e dalle 22 ci sarò io sul nostro mega progetto di Twitch Mi raccomando ragazzi venite numerosi, il link è in descrizione, venite, vi iscrivete, ok qua sotto c'è qualcosa come per iscrivervi, qua c'è la chat, qua ci sono le nuove emoticons, vedete che belle le nuove emoticons, io scrivo yuk 4316, potete accedere alle emoticons diventando subscribe del canale. Ragazzi subscribe è semplice, se avete amazon prime o qualche familiare con amazon prime potete iscrivervi qua sotto gratuitamente al nostro canale, questo comporta la vera emoticons, a non vedere pubblicità sul nostro canale e a tante altre belle cosette, chiavi in omaggio di giochi in futuro e bla 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 per i nostri eventi. E se non avete amazon prime si può comunque pagare su twitch 4,90€ adesso non ricordo per diventare subscribe, una parte andrà a noi per cui sosterrete il canale e il progetto tra virgolette. Se avete, vi ripeto, amazon prime potete farlo gratuitamente la sua iscrizione al canale, se non avete amazon prime e siete interessati è gratuito per un mese sul sito di amazon. Andate su amazon amazon prime è gratuito per un mese, tornate sul mio canale e fate subscribe gratis sul canale. Questo ragazzi era un video annuncio velox velox, il link è in descrizione e dopo del mio live, sempre sul mio canale, ci sarà il live Veronica, per cui una ragazza notturna che farà dei giochi notturni. Un bacione, un abbraccio, ragazzi vi aspettiamo numerosi, condividete, contiamo su di voi, da Luke è tutto, ciao a tutti. Ah mi raccomando quando arrivate scrivete hashtag arrivo da Luke in loop, mi manda l'app, così. Ah mi raccomando quando arrivo da Luke in loop, mi manda l'app, così.